Siamo al giro di boa del campionato di Serie B di pallannoto maschile. Finalmente l'Ossidiana muove la sua classifica. Come ho già detto anche ai ragazzi, il girone di giorno sarebbe stato a mio avviso diverso perché intanto avendo una squadra giovanissima dovevamo ambientarci al campionato ed è così è stato. In effetti già abbiamo iniziato a prendere qualche soddisfazione, avere qualche soddisfazione con i tre punti, col crotone in casa e con la trasferta di Cosenza in cui abbiamo pareggiato e forse magari potremmo meditare qualcosa di in più. Adesso dovremmo affrontare tutte le altre partite con lo stesso ospito ma la squadra inizia ad ambientarsi alla categoria. La Serie B ha fatto i suoi primi punti subito dopo il giro di boa invece con i campionati minori a che punto siamo? Anche con l'Under 13 siamo arrivati al giro di boa. I ragazzi stanno disputando un ottimo torneo, ottimi sono i risultati bella soprattutto la squadra la quale è composta da ragazzi molto giovani molti ci sono in 2009, 2008 i risultati si vedono anche e soprattutto nell'Under 11 nella quale siamo secondi in classifica dietro l'Ortigia, l'unica squadra che finora è riuscita a batterci.